Bene, riprendiamo con questa seconda parte e con l'esercizio su React Score in cui iniziamo a mettere insieme la nostra applicazione React che abbiamo fatto sugli esami nelle settimane passate e il nostro server su React che abbiamo fatto su React sugli esami che abbiamo fatto sempre nelle settimane passate e iniziamo a fare questo lavoro, poi comunque ci sarà una soluzione disponibile per tutti e tre i corsi ed eventualmente se sarà il caso vi darò anche comunque la soluzione di questa versione che è la soluzione, la versione completa diciamo di questa versione che inizieremo a fare adesso. Ovviamente non riusciremo a finirla nell'ora e mezza che ci avanza, finirla tutta, però andiamo avanti finché possiamo, soprattutto ragionando sulle varie cose, in modo da verificare che le abbiamo davvero capite bene in vista dei laboratori, dell'esame e della vita futura oltre il corso. Prima però volevo rispondere a una domanda che è arrivata durante la pausa, perché è una domanda che credo valga la pena che sia registrata. Non mi è chiaro una cosa riguardo la Fetch API. Questa può essere utilizzata solo all'interno di una use effect o aggiungo io anche all'esterno? Allora, diciamo così, teoricamente tutti i side effect, quindi non solo le Fetch, che facciano get, che facciano post, che facciano delete, che facciano quello che vogliono, ma anche tutte le altre, le console log, eccetera, andrebbero utilizzate in un componente funzionale solo all'interno di una o più use effect. Questa è la teoria. In pratica, quello che... In pratica c'è un po' di confusione, forse perché use effect è ancora relativamente nuovo e quindi non si è ancora consolidato bene nella pratica e ci sono ancora diversi, come dicevo qualcun altro durante la pausa, diverse applicazioni React che usano le classi e quindi questo problema non ce l'hanno, non se lo pongono. Quindi per tutta una serie di fattori, nella pratica non si fa così, anche perché diventerebbe spesso molto complicato e macchinoso mettere tutti i side effects sempre, sempre, sempre nel use effect. Quello che capita, il trend, diciamo così, che vediamo più spesso nella pratica è questo. Si mettono le cose in use effect il più possibile e per tutte invece quelli casi in cui i side effects sono in una callback tipicamente lanciata da un utente o a seguito di un'interazione utente o un click, o un submit, eccetera, in quel caso viene considerato comunque lecito lasciare le side effects, come potrebbe essere la fetch API, all'interno della callback. Ecco perché nell'esempio che c'era nelle slide prima, la post veniva fatta dalla callback del bottone e non veniva fatta all'interno di una use effect. Quindi, ripeto, filosoficamente sarebbe tanto bello che tutti i side effects fossero gestiti all'interno di use effect. In pratica c'è un pochino più di elasticità in cui, ecco, noi abbiamo anche cercato di capirlo un po' in queste settimane se ci fosse delle regole più o meno chiare anche per comunicarvele bene a voi, ma non le abbiamo trovate, queste regole chiare e nette, se no la parte filosoficamente si farebbe così. ma quello che abbiamo appunto recuperato su internet anche confrontandomi con gli altri colleghi che fanno i corsi in parallelo a questo, quello che tutti abbiamo trovato è non c'è una distinzione netta tra cosa andrebbe messo il use effect e cosa non andrebbe messo, ma nella pratica viene considerato molto accettabile che eventuali side effects all'interno di callback generate, come dicevo, da interazione utente come gli onclick, gli onsubmit, onfocus, qualunque cosa che parta dall'utente possa essere lasciato nella callback perché è gestito in maniera diversa perché comunque c'è una callback che viene gestita in un certo modo. Questo risponde Amedeo? Gli altri anche, ecco. Perfetto, allora, partiamo con il nostro esercizio. Vogliamo mettere insieme il React score e il server che fornisce casualmente gli stessi esami, gli stessi corsi. Ora, la versione che avete nel repository, che è quella che in parte vedete a schermo, è praticamente identica alla versione che era la soluzione comune a tutti e tre i corsi, quindi ci sono delle lievi differenze rispetto a quello che ho fatto io nelle video lezioni nelle settimane passate, per esempio, ma sono veramente lievi. Per esempio, a me sembra, se non ricordo male, che noi chiamavamo questo code e non course code e quindi eravamo più allineati col server che effettivamente i codici li chiama codici e non course code. Invece nella soluzione comune ai tre corsi si chiamava course code. Io ho preferito, o in questo caso, ho deciso di partire da quella perché così vedevamo anche il caso di disallineamento tra il server e l'applicazione React, cosa che nel nostro caso è un disallineamento evitabile perché siamo noi che facciamo sia il server che il client, quindi ci basta modificarlo da una parte o dall'altra e abbiamo risolto, ma diciamo in pratica se il server, se il servizio a cui accediamo ad l'API non è fatto da noi, ma è un servizio che ci dà qualcun altro, ci può essere del disallineamento perché magari il servizio dell'API evolve nel tempo e quindi cambiano delle cose e noi non vogliamo evolvere di conseguenza la nostra applicazione. E quindi ci può essere del disallineamento, quindi è anche un modo per far vedere come gestire un eventuale disallineamento al netto di andare qui e cancellare course code e mettere code dappertutto. Quindi fare un cerca, quindi qui invece di course code scriver solo code e cercare course code in tutto il progetto e sostituirlo con code, però per gestire a livello di invece API, di gestione dell'API. Allora, partiamo dalla prima cosa che ci serve. Ecco, l'altra modifica che c'è qui dentro è che le date non usano più DJS, usano DJS solo per renderizzarsi in un formato particolare, in qualche formato particolare che sono i formati che abbiamo utilizzato finora. Quindi le date sono memorizzate come string. E questo perché quando arrivano dal JSON arrivano come string e se non dobbiamo poi serializzarle dentro DJS, a un certo punto React dice no. Deve essere, non può essere un oggetto, deve essere un oggetto primitivo e quindi siamo obbligati a ritornare sulle stringhe per far funzionare tutta la parte di rendering. E allora tanto vale, usiamo direttamente le stringhe. Ok. La prima cosa che dobbiamo fare, dato che dobbiamo collegare il server col nostro client, con la nostra applicazione React, è creare il nostro file che abbiamo detto che contiene tutte le API che chiamiamo api.js. E questo file possiamo anche esportarlo. Allora, definiamo una prima API che potrebbe essere quella per fare la fetch dei corsi. Ora questo, iniziamo dalla fetch dei corsi, dalla fetch degli esami, poi facciamo almeno una post o una put, insomma una degli altri tre, in modo da avere le informazioni che ci servono da renderizzare. Questo non dovrebbe essere più particolarmente nuovo perché l'avete fatto durante il laboratorio di lunedì, quindi usiamolo come check, che quello che avete fatto va da, insomma, che avete fatto le cose, che questo che vi faccio vedere rispecchi quello che avete fatto voi e viceversa. quindi possiamo fare una funzione che chiamiamo getAllCourses, per esempio, che al suo interno farà fetch, farà quello che deve fare e poi fatemi anche esportare tutta questa roba, const API uguale getAllCourses e export default API. Questo è un modo per esportare un unico oggetto che si chiama API e poi da dentro app, per esempio, chiamare i suoi metodi, quindi getAllCourses, eccetera, come api.getAllCourses, api.getAllExams, eccetera, eccetera. Poi facciamo anche la seconda, la dichiarazione, della seconda che sicuramente ci servirà, che sarà getAllExams. E esportiamo anche questa, tanto sicuramente queste due riusciremo a farle perché sono le due get che ci servono per renderizzare correttamente la nostra applicazione. Allora, cosa chiama questa funzione? Questa funzione chiama, dovrà chiamare, se ricordiamo, getAPI slashCourses. E invece quest'altra, vediamo a vedere nel readme, io l'ho aperto qui, ma è abbastanza intuitivo, per come abbiamo definito l'API, questa chiama API Courses e quella per tutti gli esami chiamerà API Exams. Quindi, getAPI Courses, getAPI Exams. Ora, dato che l'avete, in teoria, già fatto, cosa scriviamo dentro questa getAllCourses? Queste sono le API che devono andare a chiamare il nostro server. Quindi, andiamo a chiamare il nostro server. UseEffect con dentro la fetch? No, qui non siamo dentro React. Questa non è una funzione React, no? Quindi non ci serve UseEffect. Uno stato per essere corsi? Qui non siamo dentro React. Cioè, l'applicazione è un'applicazione React, ma questa non sono funzioni React. Siamo d'accordo? È un altro file in cui stiamo definendo delle funzioni JavaScript per fare il nostro GET. La UseEffect, lo stato, eccetera, ovviamente le metteremo in app. Ma partiamo col definire l'API. Che poi queste API vengono chiamate da React, vengono chiamate da un'applicazione Angular, vengono chiamate da un'applicazione JavaScript pura, non cambia niente. Perché la fetch non è specifica di React, la fetch è specifica del browser. Quindi stiamo solo definendo l'API. Poi ovviamente questi metodi, getAllCourses, getAllExamers, eccetera, saranno da chiamare con UseEffect, ovviamente. Chiarifica questo, la distinzione? Poi potremmo fare tutto dentro UseEffect, ma così manteniamo separato l'API con quello che poi ci serve chiamare nella nostra applicazione React. Quindi una fetch per la get, esatto. Quindi adesso cosa scriviamo qui? Ok. AwaitFetch e piecorsi. Siccome questo ritorno a una risposta, fatemi anche creare constResponse, awaitFetch. API Courses. Perfetto. Ora, cosa ci torna il nostro API Courses? Il nostro API Courses ci torna qui. Un 200K nel caso positivo, oppure un 500 internal server error nel caso di problemi, e nel corpo della risposta c'è l'array, nel caso del 200K c'è l'array con i nostri corsi, e nel caso dell'errore, se non ricordo male, c'è comunque un JSON che ha il... come dire, l'errore, il messaggio d'errore al suo interno. Quindi gestiamo prima il caso corretto, che è senza problemi. Quindi qui, dato che c'è un JSON, possiamo creare un Courses JSON. E cosa scriviamo qui? Abbiamo la risposta, dobbiamo estrarre il JSON della risposta. Await. Giusto. Response è giusto con await. Molto bene. Await, response, JSON, perché ovviamente questo aspetta, è un'altra promise. A questo punto, se la risposta è ok, quindi riceviamo uno degli stati 200 o quant'altro, possiamo fare return qualcosa, che adesso andiamo a scrivere. altrimenti, quindi è un caso d'errore, non abbiamo il response.key, semplicemente ritorniamo Courses JSON che conterrà l'errore. Allora, perché qualcosa? Perché qui non possiamo tornare Courses JSON così com'è? se no, potremmo farlo e anzi, invece di fare return facciamo throw visto che è un errore. Potremmo fare ovviamente così, potremmo scrivere return in Courses JSON, ma abbiamo quel disallineamento che dicevo prima. Quindi la nostra applicazione React si aspetta di costruire, di fare il rendering con oggetti che sono Courses, con oggetti che contengono all'interno Courses code, name, score e date e il nostro server restituisce oggetti con code, name, crediti, che noi non utilizziamo e poi di nuovo code, score e date. Quindi c'è questo code che da noi è un problema perché noi ce lo specchiamo come Courses code e non come code. Quindi qui non possiamo tornare questo così com'è ma dobbiamo fare una qualche esatto, dobbiamo mappare la lista esattamente. Quindi dobbiamo fare un punto map qualcosa. Quindi per ogni corso dobbiamo andare a generare qualche altro un corso che abbia la stessa struttura in realtà, lo stesso oggetto JavaScript ma con Courses code invece di code. Allora questo potremmo farlo qui direttamente se vogliamo ma possiamo anche farlo in una classe a parte. quindi per esempio immaginiamo di avere una classe che adesso andiamo a creare che chiamiamo course che adesso ovviamente mi è autocompleto sbagliato che abbia un metodo JSON che abbia un metodo from per esempio un metodo JSON che mi prenda un oggetto di tipo corso e mi faccia le conversioni che servono. In questo caso è una conversione piccola ma potrebbero anche essere conversioni più complicate. Quindi andiamo a creare una cartella che chiamiamo models e all'interno di questa cartella models andiamo a creare un course punto javascript e già che ci siamo facciamo anche un ripasso sulle classi quindi possiamo avere una classe che si chiama course che avrà un costruttore con course code che è quello che serve a noi name e cfu e questo costruttore farà dis.coursecode uguale coursecode dis.name uguale name e dis.cfu costruttore semplice tranquillo diciamo uguale cfu e poi sempre all'interno di questa classe possiamo costruire questo metodo statico perché non ci serve che l'oggetto sia costruito che si chiama from json che ci costruirà questo nuovo corso cambiando questo nome allora noi possiamo o semplicemente chiamare il costruttore una cosa facile sarebbe chiamare il costruttore quindi fare un return new course e passare json code json name e json cfu a questo punto il mapping lo facciamo come mando il costruttore della classe ci sono anche altri modi usando object assign eccetera ma questo di prima battuta può andare bene è più semplice chiamiamo il costruttore e costruiamo ogni volta una classe quindi qui semplicemente chiamiamo questo metodo che fa un nuovo corso ogni volta e lo metto in questo array e se c'è un errore invece ci restituisce il json così com'è perché tanto il json conterrà un errore scriviamo anche get all exams cosa ci cambia in get all exams rispetto a get all courses le API sicuramente le date le date sono stringhe quindi non tantissimo però questo codice in realtà possiamo fare copia e incolla e cambiare sicuramente le API questo lo chiamiamo magari exam json così ci ricordiamo questo lo mettiamo qua questo lo mettiamo qua perché nel nostro readme anche lui funziona nello stesso modo qui ovviamente non possiamo fare più course from ma dovremmo avere se vogliamo mantenere la stessa struttura un exam from ex che farà in maniera simile a quello che fa corsi quindi posso fare copia e incolla di questo della classe corsi e la possiamo chiamare exam e poi andiamo a scrivere questo in exam ovviamente il costruttore avrà cosa avrà il costruttore codice score e data quindi course code score e date che abbiamo detto essere una stringa quindi score no questo era giusto code questo è giusto score e questo e questo score no date uguale date e questo from farà la stessa cosa ma ovviamente json code json score e json e json date quindi abbiamo cambiato anche la classe ma dato che è una classe di modello che ci fa il modello del nostro esame del nostro corso il nostro esame ha queste tre variabili ha queste tre proprietà il nostro corso ne aveva altre tre ma non sono particolarmente complicate come proprietà e usiamo sempre questo metodo from così ricicliamo lo stesso concetto questo in teoria possiamo chiuderlo e abbiamo fatto le nostre due API del get quindi facciamo la fetch su esami aspettiamo la risposta quando la risposta ce l'abbiamo prendiamo il json che ci ha detto la risposta perché sicuramente per come è fatto il nostro server ci può solo essere un json sia in caso positivo che in caso negativo perché il server è fatto così perché l'abbiamo fatto così aspettiamo che json venga partificato a quel punto controlliamo la risposta era ok allora creiamo facciamo questo questo mapping per cambiare questo course code in code altrimenti ci bastava ritornare quello che tornava il server e allora se abbiamo noi pieno controllo del server e del client come in questo caso non complichiamoci la vita come in questo caso facciamo subito le cose allineate però noi stiamo facendo anche un esempio diciamo così didattico e quindi voglio mostrarvi anche queste piccole cose che ci complicano levemente la vita ma può capitare nella pratica di avere un server fatto da qualcun altro altrimenti lanciamo il json che contiene l'errore il messaggio d'errore e poi esportiamo tutto ecco qui ovviamente dobbiamo fare import exam from e l'abbiamo messo dentro models exam e poi anche import course from la stessa cosa ecco qua perché ovviamente per usarle dobbiamo importarle ok allora lasciamolo pure aperto questo perché poi continueremo a scrivere e a un certo punto faremo una funzione per esempio add exam che farà qualcosa chiamerà la post sempre su API exams però la facciamo in un secondo momento iniziamo a mettere insieme a usare queste come diceva prima qualcuno dentro la use effect allora andiamo a prendere il nostro app allora in app cosa dobbiamo fare beh innanzitutto possiamo cancellare questi no fake exam e fake course perché ovviamente non ci servono più le informazioni le recuperiamo da server di conseguenza questo stato non può più inizializzarsi con fake exam ma si inizializzerà vuoto ci servirà come qualcuno diceva prima anche uno stato per la lista dei corsi perché non ci abbiamo più nella variabile ma la prendiamo dal server quindi courses set courses uguale use state anche qui vuoto perché non abbiamo corsi all'inizio cos'altro ci serve ci serve sicuramente andare a vedere se c'era qualche fake course da qualche parte qui per esempio quindi questo deve diventare courses e questo deve diventare courses e questo deve diventare courses quindi controlliamo che non ce ne siano più no ok poi dobbiamo sicuramente importare API l'abbiamo appena fatto e in questo caso è qui perché l'abbiamo appena creata ovviamente lo vogliamo utilizzare e dobbiamo l'abbiamo già anticipato importare useEffect perché sicuramente lo useremo ora ci mettiamo dentro il componente funzionale di app dopo la creazione degli stati in questo caso e possiamo scrivere useEffect callback e mettiamo un array delle dipendenze vuoto perché lo vogliamo chiamare in prima battuta in fase di mount quindi quando l'applicazione viene caricata per la prima volta ora parte di ragionamento cosa facciamo lì dentro ci sono due strade possibili in questo caso non ci sono grosse differenze però mi piacerebbe poi ne scegliamo una ma mi piacerebbe che vedessimo le differenze per capire in altri casi se queste differenze hanno più senso sceglierne una o l'altra cosa facciamo in questo useEffect cosa deve fare l'applicazione quando si monta quando il componente app fa il rendering richiedere le informazioni a server quali? è ovvio che debba richiedere le informazioni a server è giustissimo esami e corsi ecco giusto dobbiamo chiedere sia esami che corsi e qui c'è la domanda dove possono emergere delle differenze che di nuovo in questo caso sono veramente minime e quindi è praticamente indifferente quasi di che cosa scegliamo questa richiesta di corsi ed esami l'abbiamo accennato già un po' l'altra volta ma queste richieste le facciamo in parallelo quindi chiediamo sia corsi esami e quando le abbiamo a tutti e due facciamo delle cose nell'interfaccia o le facciamo in sequenza quindi chiediamo per esempio prima corsi e poi se corsi viene restituito con successo chiediamo esami tanto esami non possiamo visualizzarlo in ogni caso comunque senza corsi in questo momento la differenza tra queste due è veramente lievissima poi noi non useremo una delle due in questo esempio però anche l'altra può andare bene in questo caso specifico allora qui già vedete abbiamo la squadra in parallelo o quantomeno uno una persona che dice in parallelo e quattro persone che dicono in sequenza allora in realtà in questo caso specifico come vi dicevo sono entrambe giuste in questo caso specifico però volevo sottolineare qual è in altri contesti il vantaggio e cosa si usa di più no? allora noi possiamo farli in sequenza in questo caso va bene come dicevo non cambia tantissimo allora qual è il vantaggio di farli in sequenza o in parallelo e quali sono i svantaggi? in parallelo per farli in parallelo dovremmo fare promise all promise all accetta una serie di promise in questo caso possiamo passare il get all exams get all courses e quando entrambi hanno completato l'elaborazione e l'elaborazione di entrambi è con successo quindi la promise viene accettata risolta non rifiutata quando entrambi hanno la promise risolta il corpo della funzione di promise all viene eseguito e quindi si può iniziare l'elaborazione su entrambi se uno delle promise che vengono passate da promise all questo è un ripasso viene rifiutato allora tutto promise all viene rifiutato e quindi non abbiamo nessun risultato se noi nel nostro caso facessimo così se esami avesse un problema avremmo fatto una chiamata corsi ma non ci sarebbe servita e comunque non potremmo processarla se i corsi fallirebbe avremmo fatto una chiamata a non fatto una chiamata get diciamo a esami che comunque non potremmo processare e ce la saremmo potuto evitare ma questo è come funziona promise all qual è il vantaggio del farlo in parallelo beh è veloce perché faccio due chiamate quasi in parallelo quindi se corsi ci mette due secondi a ritornare esami ci mette tre secondi a ritornare con sempre numeri totalmente a caso giusto per dire dei numeri che sono anche alti per un'applicazione web ma soprattutto quando gira su un computer come nel nostro caso con una chiamata in parallelo in tre secondi se tutto va bene ho entrambe le informazioni e quindi il mio utente in fase di mounting aspetta tre secondi qual è lo svantaggio beh in questo caso lo svantaggio è veramente minimo in questo caso specifico abbiamo questo vantaggio di velocità che di nuovo però essendo tutto sullo stesso computer è un vantaggio di probabilmente un centinaio di millisecondi ecco stiamo parlando di quell'ordine di grandezza lì non stiamo parlando di minuti o di secondi lo svantaggio nella provisola è che da una parte facciamo queste chiamate in più potenzialmente in più perché lui le fa tutte le fa tutte in sequenza poi se una fallisce ovviamente anche le altre sono state fatte inutilmente ma non è un grosso svantaggio ecco nel nostro caso ne abbiamo due non abbiamo 300 e l'altro svantaggio che potrebbe esserci che in questo caso non c'è è che se noi volessimo se noi nella nostra pagina avessimo una tabella con i corsi e sotto con una tabella con gli esami con la provisola non potremmo iniziare a fare il rendering della tabella dei corsi mentre chiamandoli in sequenza potremmo fare il rendering dei corsi mentre aspettiamo che gli esami finiscano di processare per renderizzare questo è ovviamente una cosa che non possiamo fare con la richiesta in parallelo con la provisola quindi aspettiamo quei tre secondi ma non visualizziamo niente con la cosa in parallelo in sequenza aspetteremo un po' di più ma visualizziamo possiamo iniziare a fare il rendering di pezzi della pagina se avessimo della pagina da fare il rendering in questo caso non visualizziamo i corsi separatamente dagli esami e quindi non non possiamo farci niente l'altra cosa che il parallelo non ci permette di fare è se noi dobbiamo estrarre delle informazioni dal primo da uno delle promise delle fetch precedenti per utilizzarlo nelle promise successive di nuovo in questo caso non c'è un grande una grande differenza noi non estraiamo informazioni da corsi per utilizzarli per fare le chiamate successive non per utilizzarli per fare le chiamate successive in generale con le promise in parallelo abbiamo un po' meno controllo su quello che facciamo perché ci torna tutto a un certo punto e a quel punto possiamo utilizzarlo ma se per esempio immaginiamo una pagina con immaginate una pagina su un social network in cui avete l'elenco dei vostri amici l'elenco dei vostri follower quello che sia ecco se ognuna di queste persone con una foto se questa foto fosse una chiamata fetch indipendente dalle altre dall'intero elenco ovviamente questo fatto in sequenza ci metteremo otto giorni a prendere le 40 persone che vedete in quella pagina e quello si potrebbe fare in parallelo la richiesta delle foto però per fare la richiesta delle foto avete bisogno dell'elenco delle persone che arriva dalla chiamata precedente quindi non potete fare tutto in parallelo bisogna fare la prima sequenza e tutte le altre per esempio si possono fare in parallelo quindi riassumendo vantaggio della promise all velocità perché cerco di farla in parallelo svantaggio perdo un pochino di controllo e rischio di fare delle get che non mi servono ma questo è meno significativo vantaggio ovviamente al contrario vantaggio dell'approccio in sequenza ho più controllo perché ne prendo una decido cosa farmene poi decido se chiamano un'altra e così via quindi ho molto più controllo perché posso fare quello che voglio facendole in sequenza svantaggio ci metto più tempo perché se nel caso di prima se corsi torno in due secondi esami torno in tre se le faccio in parallelo dopo tre secondi ho il risultato quindi posso renderizzare la nostra tabella degli esami se la faccio in parallelo dopo due più tre secondi posso renderizzare la tabella degli esami quindi dopo cinque secondi posso renderizzare la tabella degli esami quindi faccio aspettare potenzialmente un po' di più altro vantaggio della sequenza ma ovviamente si mappa sullo svantaggio della promise all non posso iniziare a renderizzare parti di pagina con le informazioni che ho con la promise all mentre con le informazioni in sequenza man mano che mi arrivano se mi servissero posso renderizzare parti di pagina in questo caso noi ci siamo complicati di nuovo un po' la vita con queste due chiamate su esami e su corsi soprattutto per il fatto che esami non ha tutte le informazioni che ci servono per visualizzare la tabella degli esami perché se esami avesse dentro anche i nomi dei corsi non avremmo nessun tipo di problema sul lo facciamo in parallelo lo facciamo in sequenza perché semplicemente chiameremo sull'esami che avrebbe tutte le informazioni al suo interno e renderizzeremo la tabella e corsi se ci serve lo chiameremo a parte per vedere quali esami non abbiamo ancora superato eccetera 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 quindi sono tutte scelte queste che hanno vantaggi e svantaggi ovviamente in questo caso specifico dato che giriamo sullo stesso computer non c'è un'enorme differenza ma in altri casi ovviamente c'è differenza ed è preferibile una oppure l'altra ognuna comunque vantaggi e svantaggi da considerare in base all'aspetto applicativo che si sta considerando e nella pratica quello che capita è che gli approcci quando poi un'applicazione più complessa di quella che facciamo noi gli approcci si mischiano quindi ci saranno alcune chiamate che vengono fatte in sequenza alcune chiamate che vengono fatte in parallelo come nel caso della lista dei follower se devo renderizzare una lista di follower una lista di 50 amici ecco prima faccio una chiamata per prendere la lista e poi per ognuna di queste persone faccio una chiamata in parallelo a questo punto per prendere le foto ovviamente se una di queste chiamate in una promisola fallisse non renderizzerei le foto di nessuno mentre se le faccio in sequenza ci metto molto molto più tempo ma potrei renderizzare una foto alla volta dipende quanto è importante l'informazione che stiamo visualizzando e cosa vuole fare l'applicazione a cosa serve eccetera 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 ok scusate questo spiegone ma giusto per evidenziare che ci sono questi due approcci che sono approcci diversi ma non ce n'è uno che è necessariamente meglio dell'altro in ogni caso comunque e che in un'applicazione più complessa tipicamente si mischiano in base al bisogno o se potete avere il controllo su server fate un'API più furba in modo che evitiate di fare tante chiamate HTTP per avere i due bit di informazione che vi servono da visualizzare nell'unica tabella più furba di quella che abbiamo fatto noi su esami per esempio perché il server ovviamente su una controllo può fargli fare lì del lavoro non è detto che deve farlo per forza React quel lavoro può anche farlo il server quindi varie opzioni da considerare in base a quello che potete fare in base alle opportunità che avete chiaro questo piccola disamina di vantaggi svantaggi ok prendo prendo il sì è arrivato per quasi tutti ok allora in questo caso facciamo un'insequenza ma possiamo anche farlo in parallelo non ci cambia di nuovo faremo prima eseguire la pagina nel nostro caso e farlo in parallelo tanto dobbiamo aspettare perché abbiamo un'unica tabella ma non ci cambia molto la faccio in sequenza perché credo che poi la soluzione generale su tre corsi abbia la versione in parallelo così avete entrambi gli esempi e perché così ricicliamo la chiamata degli esami la ricicliamo per quando facciamo la post per minimizzare il problema degli n client così minimizziamo il codice in un certo senso quindi qui in queste effects prima di tutto chiamiamo corsi facciamolo in sequenza quindi come chiamiamo corsi siamo nel use effect chiamiamo la fetch dov'è la nostra fetch nella nostra API che abbiamo definito quindi definiamo dato che usiamo async await quindi definiamo una una funzione che si chiama API punto get all courses scusate no definiamo una funzione che si chiama get courses che sarà async e qui dentro facciamo const corsi uguale await api punto get all courses ok quindi prendiamo questo corsi e se tutto va bene facciamo set courses di courses quindi memorizziamo il risultato perché questo verrà ritornato solo in caso positivo altrimenti verrà lanciato un errore non verrà fatto return quindi se siamo nel caso positivo quindi abbiamo costruito i corsi possiamo fare possiamo chiamare set courses e quindi metterlo nello stato e a questo punto dato che questo capita solo in fase di mounting possiamo poi chiamare la funzione get courses e abbiamo finito ora facciamo un altro use effect per gli esami così vediamo anche che cosa usiamo come valore nella reddipendenza cosa che invece con la promise all non avremmo avuto questo problema perché ovviamente era l'unica use effect quindi anche facciamo un esempio un pochino più complichiamoci di nuovo un pochino la vita è un po' come abbiamo fatto con course code è un po' come abbiamo fatto creando gli esami senza il nome per vedere anche questi aspetti più più dettaglio perché possono capitare in altre occasioni ora cosa scrivi allora prima di tutto abbiamo corsi noi vorremmo dire quando corsi cambia prendi esami quindi quando corsi cambia cosa vuol dire quando corsi restituisce con il nome dei corsi quindi quando ho i corsi potrei fare dei controlli se volessi ma comunque quando i corsi sono i corsi correttamente nel JSON faccio la get per prendere gli esami ora posso scrivere così senza problemi no perché ovviamente c'è un problema cosa potrei scrivere qui se volessi utilizzare corsi corsi corsi.length la dimensione dell'array esattamente per esempio potremmo scrivere corsi.length perché? perché all'inizio corsi ha dimensione 0 quindi quando questa va a buon fine corsi avrà una dimensione maggiore di 0 io voglio chiamare prendere gli esami solo quando questo è stato riempito poi che questo sia riempito con 7 8 5 12 corsi non ci interessa ma sicuramente all'inizio avrà 0 e quindi non cambia e poi dopo avrà un altro valore più grande quindi questo useEffect può essere chiamato e quindi qui facciamo la stessa cosa const getExams uguale a sync funzione costExams uguale a weight api punto getAll come l'abbiamo chiamata? getAllExams sì getAllExams e possiamo fare setExams a questo punto di exams perché anche lui se va a buon fine ritorna altrimenti lancia un'eccezione ok e a questo punto andiamo a chiamare getExams ma invece di chiamarla direttamente la chiamiamo solo quando courses.length è maggiore di 0 perché sennò verrebbe chiamata in fase di mounting perché ricordate questo viene chiamato quando c'è una dipendenza nell'array delle dipendenze viene chiamato sia in fase di mounting sia quando quel valore cambia quindi noi in fase di mounting non vogliamo chiamarlo perché stiamo aspettando corsi la stiamo facendo apposta per aspettare corsi e quindi non vogliamo chiamarlo quindi mettiamo un if se course.length è maggiore di 0 allora facciamo getExam e possiamo fare per esempio .den possiamo prendere gli esami e possiamo possiamo prendere gli esami infatti mi pare così ok a questo punto proviamo a eseguirlo e vediamo se funziona o se ci siamo persi dei pezzi però prima di eseguirlo proviamo a eseguirlo quindi sono dentro React Score quindi facciamo partire prima il server che è questo qui nodemon e poi facciamo partire React Score npm start e così vediamo se già poi magari dobbiamo impostare i proxy mi sa che non l'ho fatto allora modulo non found non posso trovare API certo perché deve essere così e poi però controlliamo di avere anche il proxy a posto no non c'è no non c'è quindi proxy due punti http due punti barra barra localhost due punti 3001 che è la porta in cui il server viene lanciato ecco notate che per scrivere i proxy io devo stoppare React Score in questo caso era fallito ma anche funzionale se devo stopparlo non basta in fase di aggiornamento perché se no in fase di aggiornamento l'aggiornamento automatico che viene fatto quando si lancia con npm start perché in fase di aggiornamento non rilegge il file package .js .json ma rilegge solo il codice quindi ci serve stopparlo se dimentichiamo il proxy quindi abbiamo sistemato i proxy spero che questo fosse lanciato sulla porta 3001 sì e quindi possiamo riprovare npm start e poi andiamo a vedere che cosa mi sono dimenticato qua e là riga 27 certo perché courses plurale e poi come 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 from ah certo magari bisogna esportarli export default course se no non posso importarli dall'altra parte e la stessa cosa su esami voilà no, andava bene anche così era già statico, mancava solo l'export non serve function però il problema è che mancava l'export e quindi ovviamente non poteva importarlo se no l'esporto esplicitamente ok, vedete? la nostra applicazione ovviamente è carica ci sono solo due esami possiamo controllare localhost 3001 api slash exams ci sono solo due esami quindi perfetto è giusto che ci siano così ok ora proviamo a fare come abbiamo fatto prima rallentiamo il server quindi fatemi aprire il server e rallentiamo per esempio esami quindi in questo caso nella API degli esami facciamo un set timeout come prima per rallentare artificialmente esami di 3 secondi così così riusciamo anche a gestire lo stato quello di appunto attesa che adesso ovviamente non abbiamo neanche visto che la tabella non si riempiva perché altrimenti è veloce nonostante fosse in sequenza e quindi ci mettesse più tempo non abbiamo neanche notato che la tabella non si riempiva compariva la tabella vuota e poi la riempivamo quindi proviamo a aggiungere una una un rallentamento su questo su questo quindi sulla lettura degli esami dal database e sul json che è la sua generazione di json da questo rallentiamo l'intera chiamata HTTP l'intero processamento su server quindi questo dovrebbe sì ha ragione sistemiamo l'errore perché ovviamente questo deve diventare async perché se no non possiamo usare await boh lui è ripartito correttamente quindi vediamo cosa succede se noi ricarichiamo la pagina vedete compare la tabella vuota e poi dopo tre secondi circa perché corsi è istantaneo dopo tre secondi compare anche la il riempimento quindi quello che ci serve è quello stato di loading che abbiamo detto prima così possiamo anche sperimentare che funziona quindi aggiungiamo un altro stato che chiamiamo loading loading e chiamiamo set loading come il solito e facciamo use state e mettiamo la true perché quando l'applicazione parte stiamo in fase di caricamento il loading dove ci serve? il loading dove ci serve? ci serve qui ci serve qui quindi il loading è già true quindi dobbiamo mettere la false dove la mettiamo? lo mettiamo qui den facciamo la callback del den in questo caso get exam non ritorna niente quindi non abbiamo un cosa da partificare però ritorna una promise una promise vuota perché ovviamente c'è una sync e quindi possiamo fare set loading false e possiamo fare che quando loading è true invece della tabella visualizziamo caricamento in corso quindi fatemi tornare su questo così vediamo se ci sono errori e quando la tabella qui quindi dentro row possiamo scrivere loading punto di domanda è mettere span please wait o anche p please wait loading your exams puntini 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 due punti la nostra tabella quindi quando loading è vero visualizziamo attendi quando loading va falso visualizziamo la tabella a questo punto completa proviamo a vedere se funziona vedete compare please wait e dopo tre secondi circa compare l'intera tabella adesso lasciamo pure il rallentamento nel server così possiamo utilizzarlo anche dopo per vedere come appare se il server fosse lento ok a questo punto a questo punto quando fate il caricamento aggiungiamo la modifica l'aggiunta aggiungiamo l'aggiunta per esempio facciamo funzionare questa forma di aggiunta che attualmente prende le cose ma le lascia nel solo in locale su react non le aggiunge al server quindi aggiungiamo la post quindi come prima cosa scriviamo qui cosa scriviamo qui che Grazie. Dovremmo aggiungere, fetch come del post, dovremmo aggiungere l'esame come parametro della funzione e inserire la fetch con l'oggetto impostato a post, giustamente, quindi qua ci manca exam. Facciamolo, visto che prima l'abbiamo fatto con la sync e la wait, facciamolo col then e col catch, con le promise. Quindi facciamo return new promise, così per avere anche l'altro esempio. Return new promise, se ricordate, di resolve reject. Così. Fatemi chiudere parentesi giuste. Ok. Così. Qui dentro facciamo fetch di, questa è una post, quindi api slash exams, punto then. No. Api fetch exams. A quel punto ci serve, dato che questa è una post, i parametri per la post. Quindi ci serve un oggetto qui che rappresenta il metodo che vogliamo utilizzare, perché ovviamente sennò faremo una get. Esatto. Method post. Non solo method post. Ci servono anche gli header. anche senza virgolette, fatemelo scrivere così. Eders. E qual è l'header che dobbiamo mettere? È di nuovo un oggetto, questa volta una stringa davvero, content, type, due punti, application json, perché manderemo nel corpo, no? Un json. Questo potrebbe anche essere calcolato automaticamente dal body, automaticamente senza esplicitarlo, però è meglio ricordarsi di esplicitarlo, così abbiamo sempre presente che quello è un json e dobbiamo passare nel corpo un json. e così siamo sicuri di un check ulteriore per noi nel fare le cose, diciamo così, giuste. E a quel punto ci manca il body, il corpo del messaggio. Facciamo la post con un json e passando l'esame. Esame, quindi exam, no, l'esame in json. Ora, di nuovo, qui abbiamo il problema che noi stiamo usando course code e il server sta usando code, quindi dobbiamo fare json.stringify, quindi creiamo una stringa in json dal nostro esame, quindi json.stringify, e dentro dobbiamo farlo a mano, code, due punti, exam, punto, course, code, virgola, score, due punti, exam, punto, score, e cosa che c'era? date, due punti, exam, punto, date. ok, quindi questo chiude quell'oggetto, poi mi sa che c'è una parentesi, ok, qui serve, questo chiude la parentesi tonda della fetch, poi punto den, perché stiamo facendolo così, e dentro questa den di nuovo un'altra callback, in questa den abbiamo la risposta. A un certo punto otterremo la risposta. e qui possiamo fare se response.ok, quindi se la post ci ritorna ok, possiamo risolvere la promise, e quindi semplicemente non tornare niente, perché tanto ci torna 201 nel caso di creazione comporreta, e quindi torniamo alla promise risolta. Resolve null, risolve niente, non cambia. Altrimenti, ecco qui, dovremmo analizzare gli error. Analyze and return. Perché? Perché la post, se ricordiamo, ci torna 201, se tutto va bene, oppure 503, oppure 422. Quindi dobbiamo ovviamente gestire, ritornare a questi errori, o l'errore generico, o l'errore, gli errori, che non siano, che siano diversi da 201, che arrivano comunque in JSON, in maniera analoga a quello che arrivavano prima. Quindi per esempio, poi possiamo segnare to do complete, per non stare qui a scrivere 40 righe di gestione di tutti i possibili errori. Però per esempio, potremmo dire response.json, perché nel caso di un errore c'è sicuramente un JSON, punto den, e facciamo un'altra callback. Ecco qui, ovviamente, avendo scelto di usare le promise col den, e non con la sync e la wait, stiamo facendo tante den, con dentro una den, con dentro un catch, e così via. den, possiamo passare, in questo caso, l'oggetto, che ci viene restituito dalla nostra, dalla nostra chiamata, dal nostro errore, se andiamo a vederlo nel server, nel caso di una post, tornavamo a un oggetto, prendiamo questo qua che abbiamo costruito a mano, che è un oggetto che ha un campo error e poi la stringa di errore. Quindi, torniamo a questo oggetto, che è questa definizione di testo, e per esempio, possiamo fare, scriviamolo in riga, tanto non è molto lungo, e possiamo per esempio fare reject di oggetto. Tanto è già un JSON, quindi lo restituiamo direttamente alla risposta. e poi potremmo fare punto catch, eccetera, eccetera, eccetera. E avanti così. E poi potremmo anche avere, adesso questo è sull'else, quindi niente, qui sul, sul den della fetch, potremmo a sua volta avere un catch, che gestisca l'eventuale errore della fetch, quindi l'errore di comunicazione sulla rete. Quindi, per esempio, catch di errore e fare di nuovo una reject con error due punti cannot communicate with the server. No, un qualcosa del genere. Però, ecco, la parte sugli errori si può completare, impazzire quanto volete. Non è ovviamente obiettivo del corso andare a intercettare tutti i singoli errori e poi dimenticarsi altri pezzi, ma è una cosa, è sicuramente una buona norma gestire gli errori e passarli quando sono informativi all'utente nell'interfaccia grafica. I due metodi sono equivalenti alla gestione degli errori e quali due metodi? Add exam e get exam? sono equivalenti. Abbiamo gestito più cose perché la post ci dà più errori. Allora, questo qui in un certo senso è questo qui. Questo qui sul fatto che la fetch fallisca di qui non la gestiamo. Ci vorrebbe un 3-catch su tutto. Quindi sì, abbiamo gestito un pelino di più di qua. Però, qui se volessimo gestire anche quell'errore potremmo rinchiudere questo in un 3-catch e fare un catch perché è la fetch che dà questo errore. Gli errori, la gestione degli errori è una di quelle cose che se uno vuole può perdere anche 5 giorni a fare tutta la gestione degli errori in tutti i casi possibili e immaginabili. Però, se stiamo qua a fare tutta la gestione degli errori non andiamo avanti con React. Quindi, è una cosa importante da fare sicuramente, da intercettare e da comunicare come esercizio quando siete annoiati e non sapete cosa fare. Diciamo così. o soprattutto non sapete cosa fare perché annoiati non lo risolve. Ok, abbiamo la nostra catch, abbiamo la nostra post che fa qualcosina in più e questo ci aspettiamo che non capiti perché non capiti quasi mai perché vuol dire che il server proprio non c'è, non risponde. Un eventuale catch qui dopo probabilmente capita di rado perché vorrebbe dire che questo response.json fallisce ma se il server restituisce sempre un json come errore non restituisce niente che non sia un json sarebbe un errore interno a javascript o comunque un pacchetto che arriva incompleto quindi qualcosa di un pochino più particolare. Però volendo diciamo così questo to do complete mettiamolo vabbè lasciamolo lì no? Complete di error handling in generale se uno vuole però proviamo ad andare avanti visto che sono le 11.10 sul non ci sono errori non capitano errori perché va tutto bene in questo momento poi bisogna gestirlo ovviamente. Ora abbiamo la post cosa andiamo a toccare sulla post beh la post se ricordate come funzionava questo c'era add c'era un form c'è un form ancora quando io premo salva veniva chiamata un metodo dentro che usiamo components che è questo end or submit che alla fine chiamava questo add or update exam che dove è finito andava a chiamare andiamo a vederlo qui add or update exam andava a chiamare il metodo add exam che è eccolo qui quindi in questo metodo add exam invece di fare questo set exam cosa dobbiamo fare questo possiamo lasciarlo per lo stato diciamo così inconsistente non ancora allineato sporco tra la richiesta presa in carico e la richiesta effettivamente eseguita e poi facciamo api punto add exam a questo punto di exam punto den oh scusate fatemi togliere queste parentesi punto den no le parentesi servono punto den in realtà cosa facciamo in questo punto den l'abbiamo visto prima dovremmo impostare quello che prima abbiamo chiamato setup date perché vogliamo aggiornare sia lo stato in parallelo che poi riaggiornarlo quando abbiamo le informazioni quindi qui potremmo rifare questo se va tutto a buon fine poi potremmo avere un punto catch che gestisce gli errori ovviamente gli errori che vengono passati indietro nel caso di rifiuto della promise ma evitiamo di farlo adesso e punto den potremmo o rimettere questo oppure visto che abbiamo questo problema degli n client potremmo andare a fare la get e quindi usare quello che nelle slide abbiamo chiamato il setup date ora qui possiamo definire un altro stato che chiamiamo per esempio dirty invece di update ma è un nome a caso set dirty che anche lui inizializziamo a true quindi a questo punto quindi abbiamo questo dirty a questo punto quando aggiungo questo sarò nello stato sporco perché non è ancora l'esame consolidato quando chiamo l'API e l'API mi torna con successo quindi fa quel resolve null cosa vado a fare vado a fare set dirty a true perché 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 a quel punto vado a mettere dirty come dipendenza qui vado a controllare che dirty sia di nuovo vero e a questo punto oltre a fare set loading faccio anche set dirty e lo rimetto a false quindi quando carico imposto loading imposto false quando visualizzo la tabella imposto entrambi a false a quel punto quando faccio l'aggiunta vado in uno stato sporco e quando c'è il ritorno dico ok guarda che il tuo stato sporco devi fare qualcosa e allora dato che devo fare qualcosa richiamo lo stesso use effect che avevo definito prima che adesso partirà non solo quando la lunghezza del corso cambia ma anche quando dirty cambia e tutto il resto rimane uguale quindi abbiamo riciclato il contenuto qui dentro tutti questi aspetti di gestione degli esami e questo possiamo riciclarlo per la delete per la modifica allo stesso identico modo ora proviamo a vedere se funziona quindi rifacciamo partire il server che avevo stoppato e rifacciamo partire anche react score così vediamo se anche ho lasciato qualche pezzo qua e là per esempio add exam è definito ma mai usato certo quindi sì qui mi manca da esportare add exam giusto? sì e qui add exam lo aggiungo ok a questo punto proviamo a vedere se funziona aggiungiamo un altro esame per esempio data science con il voto di 30 lasciamolo così vedete data science viene aggiunta a questa tabella in realtà questa è l'aggiunta non sincronizzata e dopo 3 secondi questa tabella viene riaggiornata con data science corretto quindi non vedremo in questo caso nessun cambiamento ora dato che questa è l'aggiunta sporca io non posso finché non è sincronizzato davvero cancellare e modificare quindi quello che potrei fare per esempio è così potrei aggiungere una proprietà se avessimo l'id della tabella potremmo usare l'id anche perché in questo caso è una cosa aggiunta un id e quindi tutto il resto id questo potrebbe avere id-1 però potremmo aggiungere una proprietà che possiamo chiamare status una proprietà l'esame che abbiamo aggiunto l'esame temporaneo che abbiamo aggiunto e mettiamo added come proprietà e cosa possiamo fare con la proprietà beh per esempio qui quando andiamo a renderizzare questa riga dov'è? in create exam raw qui qui andiamo a capo questo così un pochino più chiaro qui cosa possiamo fare in exam raw beh possiamo dire possiamo fare uno switch su props.exam.status e dire case added e per esempio definire una variabile let let status class vorrei insomma quando l'aggiungo far diventare verde questa riga e sparire questi bottoni in modo che sia evidente graficamente che quello è solo un'aggiunta temporanea verde per l'aggiunta gialla per la modifica e rossa per la cancellazione per esempio per usare tre colori che possiamo immaginare che possono avere questo significato quindi caso aggiunto cosa faccio? vado se ricordate o se volete vedere la documentazione di bootstrap in una tabella si può cambiare il colore aggiungendo la classe che si chiama table nel caso del verde table success nel caso del rosso table danger e nel caso del giallo table warning e poi break e poi mettiamo anche il caso di default in questo momento perché non abbiamo altri casi e lo facciamo solo break ovviamente e a questo punto andiamo a mettere in exam qui nel tr class name uguale status class in realtà status class la inizializziamo a null in modo che non compaia niente quando e negli altri casi come in questo caso qui e quindi status class e poi quello che vogliamo è che quando status class per esempio facciamo così quando props punto exam punto status esiste allora quando non esiste allora qua allora quando non esiste allora non voglio vedere questa riga però non facciamolo così facciamolo perché sennò ci sparisce proprio la riga della tabella quindi facciamo che ci mettiamo un t di vuoto per esempio ok e proviamo a vedere se funziona quindi cancelliamo dato science in realtà no non devo cancellarla qua non importa aggiungiamo un altro perché la delete non funziona aggiungiamo software engineering facciamo salva vedete compare verde adesso dopo tre secondi non possiamo fare operazioni dopo tre secondi sparisce il verde e torna nella versione consolidata ora potremmo fare la stessa cosa per esempio potremmo aggiungere un case update con status class table warning per farlo diventare di giallo e un case deleted con table danger e possiamo gestire le tre operazioni nello stesso modo e se volessimo no questa stessa cosa su add possiamo farla sul delete quindi avremo un API che adesso non abbiamo ancora che potrebbe essere delete exam in cui passiamo il course code e che fa esattamente la stessa cosa al den mettiamo set dirty a true poi ovviamente questa API non ce l'abbiamo ma forse riusciamo a definirla al volo function delete exam course code anche questa per me copiare qua così faccio facciamo un po' prima questa è una delete quindi faccio una delete a exam course code oppure facciamo così punto più course code non facciamo una post ma facciamo una delete e la delete non ha né corpo né header quindi ci basta questo a quel punto se la risposta è ok è tutto uguale perché mi sembra che la delete se guardiamo funziona allo stesso modo ritorna ok oppure un errore in caso di errore generico come json quindi non cambia no praticamente niente rispetto a la post quindi si può ricopiare il template esportiamola e di qui a questo punto abbiamo già impostato tutto quello che ci manca è questo set temporary state for the deleted exam perché ovviamente se noi lo cancelliamo non vogliamo che nella stessa interfaccia si possa anche modificare mentre lo stiamo cancellando se no diventa un pasticcio e per la delete dobbiamo ovviamente cambiare un pochino set exam questi sono i vecchi esami e cosa dobbiamo fare? una cosa diversa da così dobbiamo fare old exam perché dobbiamo modificarlo non solo cancellarlo quindi old exams return come facciamo per la per l'update ecco una cosa simile a questo perché stiamo aggiungendo stiamo modificandolo per aggiungere lo stato updated deleted quindi exam punto courses equivalente a course code return in questo caso è diverso possiamo fare punto 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 exam virgola status due punti deleted altrimenti torniamo a esame ora se riproviamo aspettiamo sempre tre secondi se cancelliamo software engineering vedete diventa rosso e dopo circa tre secondi sparisce e se aggiorniamo la pagina e aspettiamo questi tre secondi ovviamente software engineering non c'è più perché l'abbiamo cancellato sul server sul server stessa cosa possiamo farla per l'update però in questi ultimi cinque minuti scarsi vorrei evitare di farlo di corsa sull'update tanto è lo stesso meccanismo che abbiamo già usato per l'add e per l'add elite e vorrei sapere se invece avete domande altrimenti possiamo possiamo interrompere qui la lezione c'è qualche domanda qualcosa di non chiaro questo ve lo carico subito su Vtab mentre voi pensate se ci sono delle domande grazie Nessuna domanda? Va bene, allora chiudiamo pure qui questa lezione, lunedì nell'altra parte del Big Lab avrete da continuare sul vostro laboratorio, magari alcune di queste cose le avete già riscontrate nel scorso lunedì e avrete da continuare e vi chiederemo di aggiungere la delete, come immaginate, l'update sui vostri task e anche di gestire i filtri tenendo in considerazione questo problema degli n-client, quindi cercando ogni volta che chiamate un filtro, anche se non è strettamente necessario, di andare a fare una get su server per avere indietro lo stato completo con tutti i filtri. In ogni caso, se avete domande, come solito, potete scrivere su discussion in Slack, altrimenti buon fine settimana. Chi vuole venire in presenza nel laboratorio si ricordi di prenotarsi prima di lunedì, se qualcuno proprio si dimenticasse, avesse problemi, io posso aggiungerlo il lunedì mattina, prima del laboratorio, ovviamente, prima delle undici e mezza, quindi se servisse, se proprio vi dimenticate chiedete, ma cercate di non dimenticarvi. Ovviamente chiedete prima delle undici e mezza, perché sennò poi è troppo tardi. Nello scorso laboratorio abbiamo portato alcuni gadget fisici di GitHub, che GitHub ci ha offerto per chi era lì in presenza, quindi se qualcun altro volesse questi gadget che sono brochure, adesivi e cose simili, ed è qui intorno a Torino, purtroppo non possiamo ovviamente spedirveli via posta, perché sono gadget fisici, e appunto opuscoli, adesivi da appendere su, da appiccicare dove volete e cose così, quindi niente di particolarmente stravagante o costoso o imperdibile. Però se volete e siete qui intorno, passate, registratevi per venire una volta in laboratorio, passate da lì e prendete questi gadget se volete, e se no la prima volta che venite qui potete anche scrivermi o a me o a Luca l'esercitatore e trovare un modo per fare questo eventuale passaggio di gadget se vi fa piacere. Se no, ovviamente non importa. È una cosa che GitHub ci ha regalato in quanto è corso che utilizza GitHub per motivi di education. Basta. Detto tutto. Buon fine settimana, buona giornata. Come di solito, se avete problemi, scrivete pure su Slack. A presto. Grazie.